Mattia, due gol, una buona partita, minuti nelle gambe, ormai si avvicina sempre di più l'esordio stagionale. Sì, è una partita comunque contro una Serie C, una Novara, quindi siamo pronti e siamo carichi a affrontare l'anno settimana prossima all'inizio con la Coppa Italia. Sono stati dei test comunque che hanno permesso di rodare un po' i meccanismi e siamo contenti di questo percorso che abbiamo fatto. Questa doppietta può essere anche un segnale per il tuo futuro, per essere ancora un giocatore importante per questo Monza? Sì, io comunque voglio star qua e vorrei giocarmi le mie carte qua, so che comunque la squadra è forte, la squadra stanno arrivando giocatori molto importanti, però cercherò di mettere in difficoltà l'allenatore e ritagliarmi il mio spazio. Mattia, complimenti, grande precampionato comunque il tuo, sei partito bene da subito, qual è la tua specialità, gli inserimenti? Che prediligi, no? Quindi questo è il ruolo forse che preferisci e stai mettendo veramente in difficoltà il mister, come hai detto. Sì, diciamo questa è la caratteristica che mi piace di più, quella da partire da dietro e cercare di inserirmi e cercare il gol. So che è una mia forte caratteristica, quindi cerco di sfruttarla e cercare sicuramente di mettere in difficoltà l'allenatore sarà il mio obiettivo da qui alle prossime partite. Ti sarebbe piaciuto magari affrontare qualche squadra più di livello per i Serie B, i Serie A? Ma quelli sono scelte che fa la società, non aspetta a noi giudicare. Noi abbiamo fatto un ritiro importante dove comunque abbiamo cercato i vecchi di assimilare ancora di più le elezioni del mister e cercare anche di farli apprendere ai nuovi. Quindi anche se abbiamo affrontato squadre di categorie inferiori, comunque è importante per cercare di trovare i meccanismi giusti. Grazie.